Il Mondo in Casa, a Trento un forum di riflessione e approfondimento per indagare il rapporto fra media e fenomeno migratorio. Venerdì 1 aprile, dalle 10 alle 13, Sala Rosa del Palazzo della Regione, la Fabbrica dei Pregiudizi, le ricadute sulla comunità Rom. Sabato 2 aprile, ore 20 e 30, Teatro San Marco, concerto della cantante macedone Esma Rezepova con l'ensemble Teodosievski. Grazie a tutti.